GAMEYEAH! 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 Ciao Qtip a tutti! Dai pallaci! Ciao bentornati su GAMEYEAH! Sono Gian E con Chiara Adesso parliamo con questo ragazzo ben educato Eh? C'è qualcosa che ti serve di cui hai bisogno da me? La tua maglia! Dov'è il tetto? Ma Nessuno può andare lì Eh Comunque Semplicemente basta che sali le scale e ci arrivi Grazie bro! Grazie Che è proprio ritardato Troviamo la la tipella Ah certo La biondona Ehi quello non era Sakamoto Senpai Ho visto salire Forse perché Ho chiamato qualcuno Per prenderla a pugni Oh come Come è successo All'anno scorso Ah quindi ha pestato qualcuno al club di atletica Per quello è Eh stagli lontano perché Sono troppo giovane per morire Siete delle primine! Allora le scale Per salire Ah di quanto Qui si è? Gente a caso Roof Ehm C'è un Un segno di Vietato all'accesso Ok ok Ma sembra che la porta sia sbloccata Andiamo all'appuntamento Va che duro! Ah eccoti qua! Scusate per chiamarti qui Ah non mi piace di averti chiamato così Ma scommetto che Kawakami ha già detto in giro cose tipo Ah non metterti Cioè non Non farti coinvolgere da lui eh No! 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 Cosa gli dici? Come fai a saperlo tipo? Ma sei un mago? Ma... 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 Ma lo... Lo sospettavo Comunque Siamo... Siamo tutte e due sulla stessa barca Ho sentito che hai... Un... Un precedente penale Tutti quanti ne stanno parlando a scuola Non mi sorprende che sei così Cazzuto? Ma dove? Ma dove? Faccio domande de merda Già... Cosa è successo? Cosa è successo prima? Sai... Che siamo rimasti quasi uccisi in quel castello? Castello, 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 castello E' un sogno, giusto? Te lo ricordi anche tu, no? Non lo so Eh... Ma... Sì, ma lo ricordo il castello Sì, questo è il castello Beh... Solo perché... Visto che... Se ce lo ricordiamo entrambi No... Non è che perché ce lo ricordiamo entrambi voglia dire qualcosa Cioè... Se fosse stato un sogno Mi avresti salvato da Kamoshida Quindi... Beh... Grazie Danny Chiama mia door Figurati No... Niente di che Niente di che Ma quel tizio... Quel Kamoshida che abbiamo visto là Forse non lo sai Forse non... Non lo sai Forse non lo sai You... You probably You probably Ma... Ci sono alcune... Alcune voci che ci conosco di lui Ma... Ma... Ma chi? Ma quello che abbiamo incontrato prima? Ma quello... Che stava alla macchina? Sì... Quello lì... Mophead? Mophead? Eh... Sarebbe... Testa di mocio strappato tipo Sì... Vabbè... Quello stronzo che ha... Pieno di sé al castello Ah ecco Nessuno gli dice mai un cazzo Solo perché ha vinto una... Qualche medaglia a livello di livello nazionale Nella... Nella pallavolo Quel modo in... In cui Kamoshida era re in quel castello Era... 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 Era stranissimo Eh... Ha felt crazy Sembrava un... Un casino vero Se possiamo tornare a questo castello di nuovo Sì... L'uomo è stato un sogno Deve esserlo Scusate di... Scusate di dragarti da qui tipo questo Eh... È tutto quello che voglio dire Sai... Potremmo essere molto simili Sai... Non siamo così differenti Tu e io No... Tu sei biondo No, tu sei biondo, non vedi Tu hai la tua 24 ore con tutti i tuoi casi importanti E io ho un zainetto pieno di pennarelli Vediamo entrambi delle responsabilità Senta come se potremmo Che andremo d'accordo Con Minagwai Io sono Ryuji Sakamoto Oh, che neanche Verrò a parlare Cioè, ci faremo quattro chiacchiere se ti becco Non ignorarmi, eh Non farmi brutto, eh Ciao Però il fatto è che Visivamente il protagonista, quando è con gli occhiali così Sembra il classico serial killer, guarda Classico serial killer giappo No, dai, non troppo Perché è troppo giovane Eh, ma da Detective Conan Sì, perché sembra ancora appunto Anonimo Andiamo a casa No, non possiamo parlare con la tina Lei dice andiamo a casa Infatti ci fa vedere le cose della metro Vabbè, andiamo a casa Chi si mangia stasera? Eh, Rory No, non Carey Ci mangeremo rotture di coglioni di lui Eh, ci arriva del ritardo Eh Ho avuto una chiamata interessante Nella scuola È il tuo primo giorno E sei già arrivato con un'ora di ritardo È stato un incidente È stato un castello È stato un castello Sì, è quello che dicono tutti Vabbè Oh, fai Sì, te stesso Sì, te stesso Eh, la tua vita per la fede Se qualcosa succede qualcosa Ah, la tua vita va a fanculo Se succede qualcosa Capisci Capisci La situazione Bla 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 Sì Ok Che c'è? Pi 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 Vai, che c'è? Sì, ho appena chiuso Spero lì tre e mezz'ora Ehi Che cazzo ti stai fermo lì? Muoviti Go forry E vai a letto No, ho appena assunto un part timer C'è un lavoratore part time Io Non ti dimenticare di chiudere la porta E spegnere le luci Ma se sono il tuo part timer Quando è che mi paghi? Mai Sì, me ne vado Te l'ho detto, è un part-timer Vivi... Ah, l'obiettivo è Vivi una vita da studente onesto Sì, ma io ci provo Il mio corpo si sente pesante Forse dovrei andare a dormire, va bene Sento esausto Esausto, esausto Forse è per via del castello Del castello Speriamo di sognare il castello Oh, stavolta ha preso le coperte, è incredibile Non hanno fatto il gambero Non gli danno fastidio quei capelli in faccia Credo di sì Ma, per moda Oh, si è un toratino del vervetrum Non si chiamava tipo Phobos, Phobos Come si tratta, sì, non mi ricordo Phobos, forse Era ora che ti facessi vedere In piedi Car... Eh sì, sì, tipo... Inmate Inmate è tipo appunto... Carcerato sarebbe Però come lo chiamo? Come li chiamano? In piedi... Fitch Oh, non lo so In piedi Merda Mi piace il nome, l'ho chiamato merda Ci ho messo anni per trovarlo Il nostro maestro vorrebbe parlare con te Il nostro maestro vorrebbe parlare con te E per il tuo bene che ascolti attentamente Che prendi a cuore Per il tuo bene prendi a cuore le sue parole Prima di tutto celebriamo la nostra riunione Oh, vedo che ti sei svegliato Che si sono risvegliati i tuoi poteri E sono speciali La tua riabilitazione può finalmente avere inizio Riabilitazione? Ma io non ho problemi alle gambe Ma è quella della droga Eh Sono cercano di farmi andare a riabilitare E ho detto no, no, no Non c'è bisogno di capire tutto per il tempo Ah, non c'è bisogno di capire tutto Per quello che sta per succedere Tu ti allenerai con il potere dei persona Che è ciò che tu hai risvegliato I persona sono, in altre parole, una maschera Un'armatura del cuore Quando si vengono a confrontare problemi mondiali Ho molte aspettative su di te Eh, non è un problema mio, bro Sì Beh, forse un po' No, ma i gats need to be at least bold Ah, che bello È vero Ma figo Sì, è vero L'hanno aggiunta in persona Questa cosa su, infatti non la conosci No, non puoi dire delle cose Se non sei abbastanza cazzuto Ci sono E in base a cosa diventi cazzuto? Ci sono i parametri Ci sono i parametri E poi faccio vederli È appena, credo, dopo questa cosa Va bene Ho molte aspettative su di te Cosa intende? Non c'è bisogno di preoccuparsi Imparerai tutto a tempo debito E col tempo Ma vai the bye Ma che cazzo vuol dire? In ogni caso Ah, in ogni caso Tip e tappe Stai apprezzando la Il Navigazione metadimensionale Usandola ti permetterà di venire Di andare e venire tra le realtà Tra le realtà E i palazzi E i palazzi I palazzi Ma intendi i castelli? I castelli, i castelli Chiedete i castelli No Te l'ho fatta vedere Come Per allenarti come l'arte Ah, come un Sì, esatto Per allenarti come l'arte La navigazione del metaverso è un regalo dal nostro maestro Fare meglio a prenderla in cura e usarla o no Come take care in you Sì Usala Con Sì, devota al tuo allenamento Così potrai diventare un bravo ladro Lo so Deve essere scoraggiante Fare uso del Del navigatore Metaverse Metadimensionale Da solo Forse ci dovrebbero essere altri Che Wolf Ah, che proverebbero gli stessi benefici Sì, gli garantirò gli stessi benefici Questo serve tutto per farti crescere come un migliore ladro E ora Torna e divertiti a fare Quello che devi Ed è 12 Martedì Martes Ah, un altro sogno strano Fate and Awakening E risveglio Sono due giochi di Fire Emblem Mani in tasca Come sempre Ma più importante Devo darmi una mossa e andare a scuola E andiamo A scuola Chiuse Aperto Che palle Quindi il tuo lavoro In quanto lavoratore part time È girare il cartellino All'ingresso e all'uscita Seriosamente? Ah, di che cazzo stava pensando Il conducente Ah, tipo Entrare in stazione A Non hai sentito? Il tizio Ha completamente verso la testa Ha sbroccato Succede un sacco ultimamente Ah, il tizio è sicuro Perché la gente Sta perdendo la brocca ultimamente, vero? Beh, con l'economia Eh, con questa economia, signora Nuoto è lo sport più completo, lo sa Ma dobbiamo fare ogni volta Il cambio a piedi? Credo di sì Sì, credo di sì Perché se vuoi poi Gli puoi trisciare a scuola Ah, certo Ah, no Adesso ci ho portato direttamente A scuola, ok Non puoi camminare in una maniera Più umana Più vera No, devi per forza fare Ta-ta-ta-ta-ta Corri, Forrest Corri Corri Cigina, credo Sembra che ce l'abbia fatta Ad arrivare a scuola Tutto Sono e salvo Ma è il castello Eh Cioè È il castello Mattina Eh, sono l'insegnante Di studi sociali Ushimaru Sarò il vostro insegnante di regole della società quest'anno Sembrate tutti viziati Bello Eh, prima che impariate le regole della società forse è il caso che cominciate con le regole dell'essere un essere umano decente Eh, tizio nuovo Tizio nuovo Novellino Eh Il filosofo greco Platone ha diviso l'anima umana in tre parti Una Un'anima è composta da appetito, spirito e cos'altro Non mi ricordo No, non lo so Appetito, spirito e Logica È plausibile Però il fatto che ti metta Guts Non so se è un trick No, non credo Ah, corretto Bravo Corretto Quindi lo sapevi, eh No, è che avevo Il insegnante di Platone, Socrate, disse che il male è generato dall'ignoranza Ah E la gente Uh, being baby Ah, che è stata tipo trattata come bambini Hanno insegnato che il male È individuale Canone become society scam Non ho capito Ah, l'ha detto giusto Ma è davvero un delinquente quel ragazzino là Sembra un teppista Ma magari è serio sullo studio Sì, perché in Giappone essere dei bravi studenti vuol dire che tipo sei un figo della madonna Cosa che tipo non esiste in nessun'altra parte del mondo, credo Vai, vai Sento come se fossi diventato un pochino più intelligente Visto che sono stato capace di rispondere a quella domanda Ehm, dai Aha E abbiamo guadagnato punto intelligenza Ah, fammi vedere allora Allora Abbiamo conoscenza Coraggio Ehm, pro-fi-sing Pro-fi-s-si Pro-fi-s-si Ehm, pro-fi-s-si Pro-f-u Cosa vuol dire? Charm E kindness Quindi abbiamo la intelligenza praticamente Le palle Lo charme, il carisma E la gentilezza E pro-fi-s-si sarebbe? Conoscenza, competenza E che cazzo cambia il knowledge? Buh Abilità, competenza Boh, forse sarà che tipo knowledge è accademico E pro-fi-s-si è tipo Capacità Logica Sì, orientamento Boste, cazzate qua No, però no, aspetta Perché lì dice Knowledge nel stesso siamo uno E quindi siamo oblivious Cioè Non siamo gaz Siamo castello, castello, castello Siamo castello, castello, castello Gaz abbiamo uno Quindi siamo Milk toast Non so Che cazzo vuol dire? Siamo dei Buh Ah, carisma Siamo delle persone che esistono Carisma Siamo esistenti Pro-fi-s-si c'è scritto Bumbling Che cosa vuol dire? Bumbling 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 Goffo, imbranato, impedito Quindi è tipo La tostaggine Secondo me Le skills Esatto, le skills E kindness Siamo inoffensivi Vabbè All right Ah, le conoscenze di Danny Sono migliorate Incidenti bizzarri Sono successe ultimamente Quelle sono le azioni Di qualche merdaccia Oh shit Oh shit Non abbiamo bisogno Di persone merdacce In questa scuola Capito Non ci servono le merdacce No, persone merdacce Non ci servono le persone merdacce Ehi Ehi Takamaki Wehi Ehi Cerchi un Una cavalcata Cioè un passaggio A casa Cose che si sono fatte Molto pericolose Ultimamente Con quegli incidenti Scusa Ho un set fotografico Oggi E per lo speciale Estivo Quindi Non posso permettermi Di perdermelo Ah Beh dai Essere una modella Va bene Ed è figo Ma Non lavorare Non Non Tipo Non consumarti Non Non lavorare Fino Fino a morire Dai Mi dicevi che Non ti sentivi bene Giusto Qualcosa Tipo Dell'appendicite Sì Pensavo di andare all'ospedale Ma Sono stata un po' impegnata Comunque Non preoccuparti Beh Ti devi sentire molto sola Mi dispiace Tenerti Forgiving Your best Ah Mi dispiace Tenere il tuo migliore amico Agli allenamenti Così spesso È per questo Che ti ho chiesto Di uscire All'inizio O è Attenta In giro Quando ti vedi intorno A quel tizio trasferito E un ragazzo nuovo Eh ciao ciao Un passato criminale Criminale criminoso Tipo Faceva trattate di organi Tipo Ho sentito che una volta Ha spinto uno No Sì Potrebbe spingere anche te Spingitore Spingitore di criminali Su Persona 5 E Se qualcosa Succede Se qualcosa Ti dovesse succedere Io Grazie Ora Scusami Non sembra Che gliela voglia Tanto dare Secondo me Sta storia È un po' Una voce C'è C'è Chissà che cosa Sta cercando di ottenere La ragazza Hmm Eh Yo 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 Sop Sop Un'imboscata Dai Non dire cazzate Come quella Comunque Non dire cazzate bro Comunque Volevo parlarti Del castello Che è successo ieri Ah il castello Il castello Il castello Il castello Il castello Ho provato a dirmi Che era soltanto un sogno Ma Non riesco Non riesco a crederci Non riesco Non riesco a fare finta di niente Come se non fosse successo nulla È tutto collegato A quel pezzo di merda Di camuscita Dopotutto Ma perché c'era tanto Di camuscita Voglio scoprire Che cosa Che cosa sta succedendo Con 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 il castello Non importa che cosa Cioè non importa cosa Eh Quello E sai Tu sei l'unica persona Su cui posso contare Per questa cosa Quindi How you am Non ho amici Non ho amici Non ho amici Non ho amici Questa è la mia Questa è la mia Questa è la mia La mia benna Questa è la mia benna Dove la metto la benna Sfruttatemi le arance Sono le Tre di notte Vabbè Eh Dai Dai vai Sposta normale Oh Finalmente Riesco a A tirare fuori Un po' di Di senso Da quello che hai detto Eh micchia Oggi sono diventato Più intelligente Eh sì Oggi mi sento Proprio ispirato Penso che dovremo Provare a Rifare Gli stessi passi Di ieri Tornare sui nostri passi Nel frattempo Andare in stazione Eh andiamo insieme Ti accompagno Fammi sapere se noti Qualche altra roba strana Ah no Altri edifici strani Sulla via Ryoji Non sembra poi Un così cattivo ragazzo Forse dovresti Andare con lui Andiamo Senza dirglielo Però lo seguo e basta Se un castello come quello Veramente esistesse Non faremo fatica A trovarlo Ma nel prossimo episodio Lo troviamo E troviamo il castello 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 Nel prossimo episodio Ciao ragazzi Comunque siamo il castello Comunque siamo il castello